Una batosta da cui il sistema alberghiero pugliese potrebbe non riprendersi se il governo non varerà al più presto dei provvedimenti di concreto sostegno al settore. Dopo i primi segnali negativi giunti a febbraio, la pandemia da coronavirus ha determinato un vero e proprio tracollo di prenotazioni nei mesi di marzo ed aprile. L'analisi del centro studi di Federalberghi è impietosa, il mercato si è completamente bloccato provocando un calo di presenze del 93%. E le prospettive sono anche peggiori se ad aprile sono andati perduti 3200 posti di lavoro stagionali e altri 7000 sono a rischio per i mesi estivi. E quando sarà terminata la cassa integrazione, spiega il presidente di Federalberghi Francesco Caizzi, ci saranno grossi problemi anche sui contratti a tempo indeterminato. Le stime per il 2020 sono drammatiche, previste 10 milioni di presenze in meno rispetto allo scorso anno, 3 milioni di stranieri e 7 di italiani ed il fatturato del comparto ricettivo calerà di circa 300 milioni di euro. E' come se 14 mila persone non percepissero lo stipendio per un anno, semplifica Caizzi. Per i mesi estivi proseguono da Federalberghi e possiamo solo aspettarci una lentissima ripresa del turismo interno, mentre la domanda straniera continuerà ad essere praticamente nulla. Gli albergatori si chiedono quando e come potranno riaprire, ma in molti stanno valutando se sia veramente il caso di riprendere le attività in queste condizioni. I costi per la manutenzione e la sicurezza fanno rilevare gli operatori del settore e sono rimasti invariati anche a strutture inattive. Il bonus vacanza che il governo si prepara ad inserire nel prossimo decreto è semplicemente una misura sbagliata, evidenziano da Federalberghi, in un momento in cui servono sostegno e liquidità alle imprese, aiuti diretti per chi ha subito un calo di fatturato, tutele specifiche per le imprese in affitto, interventi sulle imposte locali e nazionali, potenziamento ed accelerazione dell'erogazione del credito, proroga della cassa integrazione. Chiediamo infine, conclude Caizzi, l'esonero dalla responsabilità per le imprese che applicano i protocolli anticontagio e soprattutto regole e imposizioni economicamente sostenibili e che non trasformino i nostri alberghi in ospedali.